Questa operazione del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Chieti volta a rintracciare illeciti nel settore delle start-up sono finite. Nel Mirino alcune start-up in questa operazione sono state eseguite, diverse attività ispettive finalizzate appunto a riscontrare la regolarità delle domande per l'accesso ai finanziamenti pubblici di matrice comunitaria che vengono però elargiti dalla regione Abruzzo per sostenere o per far nascere nuove imprese. 16 le denunce, quasi 700 mila euro sequestrati. Il piano di controlli esteso a tutta la provincia teatina è frutto anche di un protocollo d'intesa che era stato stipulato tra la regione e il Comando regionale Abruzzo della Guardia di Finanza dell'Aquila ad essere sottoposti a controllo. Sono stati i beneficiari del Fondo per il microcredito FSE per le nuove misure del 2018 presenti nell'area di Chieti, Ortona e Vasto. Le erogazioni andavano da 5 mila a 25 mila euro appunto con l'obiettivo di sostenere le micro imprese locali e anche il lavoro autonomo a favore di soggetti che per condizioni economiche o mancanza di garanzie reali avrebbero avuto difficoltà ad accedere ai canali tradizionali del credito. 50 le domande di accesso al sostegno per l'avvio di start-up risultate irregolari non hanno rispettato a vario titolo le prescrizioni previste dal bando, cioè mancanza appunto di requisiti necessari o anche mancato avvio delle attività a fronte dei finanziamenti ottenuti e addirittura distrazione dei fondi senza alcuna giustificazione fondi poi impiegati per scopi personali. L'intesa cooperazione tra la Fira e la finanziaria regionale è risultata determinante per il buon esito di questa operazione appunto come dicevo ha portato alle denunce, 16 denunce e anche al sequestro di beni fra le motivazioni di queste denunce e di quindi condotte penalmente rilevanti come appunto indebita percezione di finanziamenti comunitari, malversazione di erogazioni pubbliche fino ad ipotizzare la truffa aggravata ai danni dello Stato.